Come prendere le misure per il materasso? Le misure del materasso vanno rilevate dalla rete del letto sul quale lo dovrai utilizzare. Per prendere le misure del materasso devi misurare in lunghezza e in larghezza il piano di rete escluso il giroletto. Quelle saranno le misure del tuo materasso. Per esempio, se la tua rete ha una misura di 160x200 cm, anche il tuo materasso dovrà avere la stessa misura, cioè 160x200 cm. Per la misura in altezza del materasso ti suggerisco invece di non scendere mai sotto i 18-20 cm. Considera che l'altezza adeguata per un letto con materasso è quella che ti permette di sederti sul bordo del letto con le gambe perfettamente piegate a 90 gradi e i piedi completamente appoggiati a terra. Se sedendoti sul bordo del letto i talloni restano sollevati significa che sei su un letto troppo alto rispetto alla tua misura. Mentre se i piedi sono completamente appoggiati a terra ma le ginocchia rimangono piegate meno di 90 gradi, significa che il letto per te è troppo basso.